Siamo in un'agenzia viaggi di Arezzo in zona Marchionna con Patrizio Ceccherini di Confartigianato. Allora, c'è tutta una polemica sul fatto che le agenzie di viaggi non sono in linea, in regola. Voi che cosa rispondete? Che la polemica non ha senso, in quanto le agenzie di viaggi di Arezzo sono assolutamente in regola con tutte le assicurazioni, con tutte le cose che devono essere fatte per quanto riguarda la nostra professione. Ci sono addirittura i tour operator con le organizzazioni, proprio quelle di turismo organizzato, che ci fanno inserire dei dati e se non abbiamo le coperture adeguate non ci fanno neanche lavorare. Oltretutto, gli organi preposti del Comune di Arezzo, che abbiamo anche sentito, ci hanno assicurato che tutte le agenzie del territorio aretino sono assolutamente in regola. Quindi gli aretini si fidano a venire in agenzia? Gli aretini si fidano a venire in agenzia, infatti c'è per fortuna tanto lavoro. Dove vanno gli aretini in vacanza? È ritornata un po' la Sardegna grazie a dei pacchetti che si prevedono con i traghetti quasi gratuiti. C'è la Grecia che è tornata, stiamo valutando anche Spagna, eccetera, e anche un po' di lungoraggio perché comunque il lungoraggio è sempre quello che fa la vacanza esotica.